Da questo movimento che nasce i gruppi difesa della donna. Questa è stata la prima organizzazione femminile importante, direi quasi nata proprio dalla spontaneità delle donne, nasce i gruppi difesa della donna, con dei compiti ben precisi. All'inizio c'era un filo che ci legava tutte, in particolar modo anche quelle che nel ventennio avevano creduto nel fascismo. Oramai c'era una situazione che anche queste mamme che avevano i figli che erano morti in guerra e così via, avevano capito che il fascismo non aveva portato niente di buono. Quindi anche quelle che non erano state fortunate come me di crescere in una famiglia antifascista, di avere già degli ideali miei, avevano capito che era giusto fare qualcosa perché questa situazione cambiasse. Qual era il motivo principale che ci animava tutte? Era la lotta per la pace perché la guerra finisse al più presto possibile. Questo era il filo conduttore che ci animò tutte, ma è un'attività organizzata. E il nostro lavoro, siamo nati noi in appoggio ai partigiani. I gruppi difesa della donna erano proprio, l'azione era prevalentemente in appoggio alla lotta partigiana. Perché è nato subito dopo l'8 settembre, quando i ragazzi hanno cominciato a andare in montagna, che era un esercito che era senza divisa, era senza rifornimenti viveri, era senza tutto, aveva tutto e niente di quello che era un esercito regolare. Quindi il donna cercare di accapararsi queste piccole cose. Per voi adesso non vuol dire niente. Per noi andare presso le famiglie a chiedere un paio di pantaloni, un paio di guanti, una maglia, un paio di scarpe da mandare ai partigiani in montagna, voleva dire mettere la tua vita nel pericolo più grande che ci poteva essere. Perché allora i fascisti erano appoggiati dai tedeschi. Quindi le cose più brutte le facevano perché ti arrestavano, perché ti torturavano e così via. Noi che abbiamo lavorato nei gruppi di difesa della donna in pianura, il nostro rischio era così. Perché noi andavamo a viso scoperto, non avevamo nomi di battaglia, perché per esempio, non so, si portava in giro i volantini, le notizie. Le notizie giravano nelle nostre borse in bicicletta. Però i volantini, se ti fermavano, come hanno fermato me all'ospizio, che mi hanno preso la bicicletta, voleva dire andare in galera dritta dritta e non saltare mai più fuori. Si traspostava armi. Io per esempio nella borsa con le patate dentro ci mettevo le bombe a mano perché le patate erano rugnose, anche loro, e quindi le bombe a mano in fondo e sopra. Perché i partigiani per recuperare le armi, voi lo saprete, ma ve lo racconto anch'io, che il primo momento davano l'assalto a tutti i presidi fascisti per recuperare le armi. E quindi queste armi dopo dovevano essere trasportate da una persona all'altra e così via. Poi c'era bisogno delle notizie, perché i giovani erano in montagna ma dovevano sapere cosa succedeva in pianura. Quindi c'era l'andare e venire sempre di questi piccoli bigliettini per portare le notizie di come si muovevano i tedeschi, di quello che facevano i tedeschi, se c'erano i rastrellamenti, se i nostri uomini erano in pericolo, se c'era un rastrellamento. Noi in bicicletta ci davamo la voce, poi in 4 o 5, dai vari capi della frazione, nel giro di mezz'ora o 25 minuti, noi davamo l'allarme e i giovani, gli uomini che erano a casa, che erano scappati dal fronte, sapevano che dovevano andare fuori casa, e andarsi a nascondere in pianura dove era possibile. e andarsi a nascondere in pianura.